Il team Altamura di Ciro Ginestra La formazione murgiana ci arriva dal doppio 0-0 incassato prima in casa contro il Barlette e poi al curlo contro il Fasano, risultati che hanno lievemente frenato la rincorsa ai piani artissimi di Bertolo e compagni, oggi Sesti in classifica a 22 punti con il Casarano. Annullare il gap di otto lunghezze con la cavese capolista e la missione del pomeriggio. Tra le possibili novità di informazione il rilancio tra i titolari di Guido, Casiello e Molinaro. La squadra di Troise dovrà invece fare a meno del centrocampista Pugliesi che sarà operato proprio mercoledì dopo aver riportato contro il Casarano la frattura scomposta del braccio e dello squalificato fissore in difesa. Alle 14.30 invece toccherà il Francaville Insigni di scena al Fittipaldi contro la Casertana.